Si intrufolavano nei centri commerciali in questi giorni di festa particolarmente affollati e con la speranza di passare inosservati facevano razzia di quanto trovavano, dai vestiti e profumi passando addirittura per i detersivi. A sgominare il sodalizio criminale composto da tre persone, due giovani donne ed un uomo, tutti di nazionalità romena, i carabinieri della compagnia di Sansepolcro. I militari, infatti, durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei furti, hanno notato la banda entrare ed uscire più volte dal centro commerciale della Valtiberina. A quel punto si sono appostati in una posizione defilata e hanno rilevato come tre portassero fuori capi d'abbigliamento, flaconi di detersivo e profumi, credendo di non essere notati e poterla così fare franca. I carabinieri li hanno così bloccati e arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. I militari poi sono riusciti anche a ricostruire gli spostamenti dei tre nelle ore precedenti, riuscendo così ad attribuire al gruppo anche altri due furti, sempre danni di centri commerciali della zona. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 1000 euro, è stata interamente recuperata e riconsegnata ai rispettivi proprietari.